e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. 262. Neppure le norme saranno sufficienti se si pensa che la soluzione ai problemi attuali consista nel dissuadere gli altri mediante la paura, minacciandoli con l'uso delle armi nucleari, chimiche o biologiche. Infatti, se si prendono in considerazione le principali minacce alla pace e alla sicurezza, con le loro molteplici dimensioni, in questo mondo multipolare del XXI secolo, come ad esempio il terrorismo, i conflitti asimmetrici, la sicurezza informatica, le problematiche ambientali, la povertà, non pochi dubbi emergono circa l'inadeguatezza della deterrenza nucleare a rispondere efficacemente a tali sfide. Si fatte preoccupazioni assumono ancora più consistenza quando consideriamo le catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali che derivano da qualsiasi utilizzo degli ordini nucleari con devastanti effetti indiscriminati e incontrollabili nel tempo e nello spazio. Dobbiamo anche chiederci quanto sia sostenibile un equilibrio basato sulla paura, quando esso tende il fatto ad aumentare la paura e a minare le relazioni di fiducia fra i popoli. La pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento di un equilibrio di potere. In tale contesto, l'obiettivo finale dell'eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario. La crescente interdipendenza e la globalizzazione significano che qualunque risposta diamo alla minaccia delle armi nucleari, essa debba essere collettiva e concertata, basata sulla fiducia reciproca. Quest'ultima può essere costruita solo attraverso un dialogo che sia sinceramente orientato verso il bene comune e non verso la tutela di interessi velati o particolari. E con il delaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari, costituiamo un fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e per lo sviluppo dei paesi più poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni violenti o ingannevoli e non siano costretti ad abbandonare i loro paesi per cercare una vita più dignitosa. La pena di morte, 263 C'è un altro modo di eliminare l'altro, non destinato ai paesi ma alle persone. È la pena di morte. San Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera chiara e ferma che essa è inadeguata sul piano morale e non è più necessaria sul piano penale. Non è possibile pensare a fare passi indietro rispetto a questa opposizione. Oggi affermiamo con chiarezza che la pena di morte è inammissibile e la Chiesa si impegna con determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo. 264 Nel Nuovo Testamento, mentre si chiede ai singoli di non farsi giustizia da se stessi, si riconosce la necessità che le autorità impongono pene a coloro che fanno il male. In effetti, la vita in comune strutturata intorno a comunità organizzate ha bisogno di regole di convivenza, la cui libera violazione richiede una risposta adeguata. Ciò comporta che l'autorità pubblica legittima possa e debba combinare pene proporzionate alla gravità dei delitti e che garantisca al potere giudiziario l'indipendenza necessaria nell'ambito della legge. 265 Fin dai primi secoli della Chiesa, alcuni si mostrarono chiaramente contrari alla pena capitale. Ad esempio, Lattanzio sosteneva che non va fatta alcuna distinzione, sempre sarà un crimine uccidere un uomo. Papa Nicola I esortava «Sforzatevi di liberare dalla pena di morte, non solo ciascuno degli innocenti, ma anche tutti i colpevoli». In occasione del giudizio contro alcuni omicidi che avevano assassinato dei sacerdoti, Sant'Agostino chiese al giudice di non togliere la vita agli assassini e lo giustificava in questo modo «Non che vogliamo con ciò impedire che si tolga individui sceglierati la libertà di commettere delitti, ma desideriamo che allo scopo basti che lasciandoli in vita e senza mutilarli di alcuna parte del corpo, applicando le leggi repressive, siano distolti dalla loro insana agitazione per essere ricondotti a una vita sana e tranquilla o che, sottratti alle loro opere malvagie, siano occupati in qualche lavoro utile. Anche questa è bensì una condanna, ma chi non capirebbe che si tratta più di un beneficio che di un supplizio? «Dal momento che non è lasciato campo libero l'audacia della ferocia, né si sottrae la medicina del pentimento, sdegnati contro l'iniquità, in modo però da non dimenticare l'umanità, non sfogare la volutà della vendetta contro le atrocità dei peccatori, ma rivolgi la volontà a curarne le ferite». 266. Le paure e i rancori facilmente portano a intendere le pene in modo vendicativo, quando non crudele, invece di considerarle come una parte di un processo di guarigione e di reinserimento sociale. Oggi, tanto da alcuni settori della politica come da parte di alcuni mezzi di comunicazione, si incita talvolta alla violenza e alla vendetta pubblica e privata, non solo contro quanti sono responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il sospetto, fondato o meno, di aver infranto la legge. C'è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici, figure stereotipate che concentrano in se stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi che a suo tempo permisero l'espansione delle idee razziste. Ciò ha reso particolarmente rischiosa l'abitudine sempre più presente in alcuni paesi di ricorrere a carcerazioni preventive, a reclusioni senza giudizio e specialmente alla pena di morte. 267. Desidero sottolineare che è impossibile immaginare che oggi gli Stati non possono disporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difendere l'aggressore ingiusto e la vita di altre persone. Particolare gravità rivestono le cosiddette esecuzioni extra-giudiziarie o extra-legali che sono umicidi deliberati commessi da alcuni Stati e dai loro agenti, spesso fatti passare come scontri con delinquenti o presentati come conseguenze indesiderate dell'uso ragionevole, necessario e proporzionato della forza per far applicare la legge. 268. Gli argomenti contrari alla pena di morte sono molti e ben conosciuti. La Chiesa ne ha opportunamente sottolineato alcuni, come la possibilità dell'esistenza dell'errore giudiziario e l'uso che di tale pena fanno i regimi totalitari e dittatoriali che la utilizzano come strumento di soppressione, della dissidenza politica o di persecuzione delle minoranze religiose e culturali, tutte vittime che per loro rispettive registrazioni sono delinquenti. Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare, non solo per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel dispetto della dignità umana, delle persone private e della libertà. E questo io lo collego con l'ergastolo. L'ergastolo è una pena di morte nascosta. 269. Ricordiamo che neppure l'omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante. Il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l'inanielabile dignità di ogni essere umano e ammettere che abbia un suo posto in questo mondo, poiché, se non lo nego al peggiore dei criminali, non lo negherò a nessuno, darò a tutti la possibilità di condividere con me questo pianeta, malgrado ciò che possa separarci. 270. I cristiani che dubitano e si sentono tentati di cedere a qualsiasi forma di violenza, li invito a ricordare l'annuncio del libro di Isaia. spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Per noi questa profezia prende carne in Gesù Cristo che di fronte a un discepolo eccitato dalla violenza disse con fermezza rimetti la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. Era un eco di quell'antico ammonimento domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo a ognuno di suo fratello chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Questa reazione di Gesù che uscì spontanea dal suo cuore supera la distanza dei secoli e giunge fino a oggi come un costante richiamo.